Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video di Brawl Stars Oggi aprirò 6 casse piccole e 0 enormi Però altre 6 casse piccole e quelle enorme le aprirò domani In un altro video, mi sono chiamato Juventus su questo account Non perché tipo Juventus Però perché gli piace al mio amico la Juventus, io tipo Napoli Ho creato un nuovo account e come vedete ho solo questi personaggi Manco un raro perché non ho aperto manco una cassa dalle 0 coppe Io volevo cercare di arrivare almeno a 2000 senza neanche aprire una box Però è difficilissimo quindi non credo E farò un account come quelli Solo che però ogni settimana farò almeno 2 video dove spacchetterò delle casse Ok? Quindi andiamo con le 6 casse piccole e vedrò se anche mia sorella le vuole aprire con me Iris! Vuoi aprire le casse con me? Le vuoi aprire con me? Ha detto di no ragazzi, quindi le apriremo da soli Allora ragazzi Andiamo con la prima box 14 monete 5 nita E 10 scelli Molto buono Seconda box Io dico che mi uscirà un brawler Ecco la rosa raga Rosa Oh no dai Non è male Ok Il primo brawler raro Della nostra giornata Stavo a 12 Quindi devo arrivare a 6 Andiamo con un Oh altro caricamento raga Molto lungo devo dire la verità Ok 30 monete 4 colt 5 nita Non è che c'era tanta roba eh Altro caricamento 15 monete 4 rosa E 6 scelli Ok 18 monete 6 nita E 25 bull Madonna 13 monete 6 nita E 7 colt Ragazzi Devo dire la verità Insomma È andata bene Non è che mi aspettavo qualcosa in più Però Però Poteva andare decisamente meglio Raga Io premo la casella indietro Questa qua Perché Non posso premere indietro Perché c'è la registrazione video O se no mi blocca lo schermo Ragazzi Come dire Queste 6 casse le apriremo domani Più la cassa enorme Ed io Forse Porto Rosa Al grado 5 Quindi Farò un'altra cassa piccola Però Non la aprirò Perché La apriremo Nei prossimi giorni C'è domani In un nuovo video C'è domani mattina Nel nuovo video Perché Precisamente Domani Visto che Oggi Pomeriggio Oppure Stasera Mi sa stasera Perché Oggi pomeriggio Se non mi sbaglio Dovrebbe uscire No 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 Raga Mi sto inventando cose Domani mattina Domani mattina Perché Stasera Esce Footbrawl E non so se Oggi pomeriggio Oggi pomeriggio Esce Qualche nuova modalità Però Però domani mattina Subito Dopo svegliato Mi farò Farò colazione E farò La modalità Football Mi giudo in camera E farò il video Che vi porterò Ovviamente Anche ai miei iscritti Quindi ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Bella